dove si sono svolte le prime olimpiade della storia ad olimpia in grecia nel 776 avanti cristo furono svolte fino al 393 dopo cristo quando l'imperatore teodosio che aveva reso la regione cristiana regione di stato con l'editto di tessalonica proibì lo svolgimento dei giochi olimpici i giochi olimpici furono molto importanti per i greci la data della prima olimpiade segna l'anno zero del loro calendario